21 marzo 1931 Nasce Alda Merini, poetessa e scrittrice italiana. La vita di Alda Merini è un eroico e perpetuo passaggio da un manicomio a una vita normale in cui conosce anche la felicità e la tristezza dei matrimoni e la nascita di tre figlie. Molte delle sue poesie parlano dei personaggi della sua vita dei suoi mariti, dei medici che l'hanno curata degli incontri con altri poeti e scrittori che l'hanno amata e rispettata Giacinto Spagnoletti, Salvatore Quasimodo, Giorgio Manganelli Alda Merini muore a Milano il primo novembre del 2009 lasciando un immenso patrimonio letterario. Salvatore Quasimodo Salvatore Quasimodo